Sì, prendi tutto. È già pronto? Sì. Io benedico tutti i miei amici ed amiche che dalle Filippine in particolare pregano per me, pregano per la mia santificazione e io ricambio pregando per la loro salvezza eterna per trovarci tutti insieme in paradiso. Amen. Potresti darci la benedizione, Don Amor? Ecco, do a tutti per la mia benedizione, per l'intercessione di Maria Santissima, di benedica, Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Grazie, Don Amor. Sì, gente. Ecco. Sì, gente.